Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi faccio questo video per presentarvi la scontistica che in questo periodo sta facendo il nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola, di cui vi sto mostrando la pagina Facebook, ma tanto vi lascio anche direttamente e come in tutti i video il link è in descrizione, e ci sono degli sconti veramente, veramente da paura. Come vedete sulla pagina Facebook viene riportato grande promozione per rinnovo locali perché stanno facendo un ampliamento del negozio e quindi gran parte della merce che c'è dentro viene venduta scontata senza ovviamente di servire niente. Si parla di sconti che vanno dal 20 al 70% su giochi da tavolo, quindi quello di cui tratto sul canale, puzzle, giochi di miniature della Games Workshop, Warlord Games, colori, hobby citadel, quindi anche per le pitture, warhammer e qualsiasi altra cosa di modellismo, giocattoli Ape e moltissime altre cose. E gli sconti vanno dal 20 al 70%, non sono accumulabili col mio sconto discount Corridan 7, ovviamente lo sconto è già comprensivo lì dentro, però anche sui giochi da tavolo e roba della Games Workshop, ragazzi ripeto, dal 20 al 70%, che anche lo sconto minimo, il 20 è veramente tantissima roba, trovate tantissime tantissime cose. E qui ci sono un po' di immagini di tutti i prodotti che ci sono nella gioco libreria Semola, poi vi faccio vedere ovviamente anche sul sito, anche perché poi vi devo dire una cosa e vi devo dare un aggiornamento, ma vedete che giochi ce ne sono veramente tantissimi, di tutti i tipi, di tutti i gusti, qui ad esempio nel mezzo vede un Detective, veramente molto interessante, un Dune, bellissimo, mi garba veramente da morire, mi è garbato, uno Zombicide, l'alba dei morti viventi, un Blood Rage, insomma c'ha veramente un catalogo, assurdo, e poi tutte quante l'altra roba della Hape, o anche appunto giochi di modellismo e di battaglie campali come Warhammer, ma anche altri giochi della GV, perché ci sono gli sconti anche sulla roba, che quasi quasi ci faccio un pensierino, non ve lo nascondo, del Signore degli Anelli, ed è veramente uno spettacolo. Ma passiamo al sito. Come sempre vi basterà andare sul sito della Giocolibreria Semola per vedere tutti quanti gli sconti che verranno applicati e, come mi ha riportato qui sul telefono Corrado, il proprietario della Giocolibreria Semola, attiverò lo sconto online dal 22, quindi voi che vedete questo video oggi lo sconto online sarà dal 22 di questo mese e sarà attivo per circa due mesi e il codice sconto, ve lo lascio in descrizione, sarà fuori 20, quindi quando acquisterete online ci sarà il codice sconto fuori 20 che dovrete mettere al momento dell'acquisto di un qualsiasi oggetto, ovviamente che rientra nel fattore sconto, giochi da tavolo, come vi ho detto a poc'anzi, andrete nella sezione Discount e andrete a mettere direttamente il codice. Vi faccio vedere come. Quando arrivate nella pagina Procedi all'acquisto, quindi il prodotto nel carrello, hai un codice sconto, cliccate qui, nel caso, quello sempre solito, sarebbe Coridan 7, tutto maiuscolo, nel caso dello sconto attivo dal 22 per due mesi sarà invece fuori 20. Tutto scritto così attaccato, fate aggiungi, vi calcola già lo sconto, procedete e andate direttamente al pagamento. Come riporta il post, i prodotti esauriti non saranno riforniti fino al termine dei lavori, ma accettiamo con piacere i vostri ordini e prenotazioni per prodotti non disponibili, che avranno le consuete condizioni di sconto, associazioni, tessere, fedeltà, eccetera. Quindi cosa vuol dire? Che per il momento i prodotti fino al termine dei lavori dentro il negozio non saranno riforniti, ma poi successivamente riprenderanno. Se andate in negozio della Gioco Libriera Semola fisicamente avete già lo sconto applicato, per invece tutti quanti gli acquisti online dovrete aspettare fino al 22. E vi ricordo che la Gioco Libriera Semola si trova in via di Amicis 5D a Cavriago, in Italia. Quindi se andate lì fisicamente lo sconto c'è subito, se invece vi fate mandare la roba dal 22 di questo mese. Poi ovviamente se nel caso aveste altre domande, chiarimenti e tutto, lasciate nei commenti e vi risponderò. Ragazzi, sconti dal 20 al 70% anche su giochi da tavolo e roba della Games Workshop. Non lo so. Si compra? Andiamo. Dai ragazzi, spero che il video vi sia stato utile. È veramente un negozio stupendo. Sono due anni che ci collaboro, se no non lo farei. E il servizio è veloce, impeccabile, preciso e ordinato in 48 ore. Ce l'avete a casa con lo sconto e tutto. E anche quando sarà finita questa promozione sugli sconti, ricordatevi che ci sarà sempre lo sconto Coridan 7. Quindi ricordatevi che quello è per sempre, non finisce mai. Ciao ragazzi, alla prossima!